Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Apriamo come di consueto la nostra edizione, riepilogando quanto detto dal governatore del Veneto Luca Zaia nel corso dell'abituale punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. L'annuncio del giorno riguarda l'apertura a partire da oggi di circa 95.000 slot vaccinali a disposizione di tutti i Veneti che abbiano un'esenzione ticket per patologia 4, una categoria che conta in totale 444.000 persone in tutta la regione. Togliendo chi di questi è già stato vaccinato per fascia d'età, ne rimangono da vaccinare solo 194.000 dai 16 anni in su. In generale nelle ultime 24 ore abbiamo somministrato 34.339 vaccini. I sessantenni hanno raggiunto l'80% dei vaccinati, i cinquantenni sono al 70% mentre gli over 40 al 48%. Fa poi sapere Zaia che il riferimento alle problematiche di prenotazione sul portale della regione aggiunge Le prenotazioni sono aperte fino al 16 giugno. Il problema non è delle dosi che mancano ma della ridistribuzione degli slot disponibili per le prenotazioni. Penso che entro qualche giorno torneranno disponibili i posti in tutte le ULS. Zaia ha anche dichiarato di voler vaccinare quanto prima gli operatori turistici e i volontari dei centri estivi. Infine, una volta terminate le vaccinazioni agli over 40, ad avere la priorità potrebbero essere i più giovani, così da poter finalmente dare inizio a un'estate perlomeno quasi normale. A proposito di estate in lento ma inesorabile avvicinamento, Confcommercio chiede che vengano definite delle regole ben precise in relazione ai plateatici di bar e ristoranti, così da non danneggiare ulteriormente le attività. Oltre alla prossima apertura della stagione balneare, domani a Iesolo verrà ripristinata la ZTL che trasformerà la via principale dell'isolo nell'isola pedonale più lunga di tutta Europa. «È giusto dare la possibilità ai pubblici esercizi di ampliare i propri spazi», ha dichiarato Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio di Iesolo e San Donà, che aggiunge «Questo però non può diventare un ostacolo per le attività che si trovano a ridosso di questi esercizi, occludendo il passaggio dei potenziali clienti. Vanno assolutamente poste delle regole che aiutino a creare una convivenza e una reciproca soddisfazione per tutti coloro che operano lungo la via». Con Commercio non manca di precisare che i plateatici appunto non dovranno essere d'intralcio alle attività commerciali adiacenti a bar e ristoranti. Per questo motivo dovrà essere rigidamente rispettato l'orario di installazione delle terrazze e una volta terminato il servizio l'area dovrà essere completamente sgomberata. Proseguono dunque i preparativi per l'apertura della stagione turistica e proseguono anche le investigazioni da parte della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Salone di Lusso, che lo scorso novembre ha visto diversi arresti e sequestri a carico di un gruppo criminale attivo dal 2015 nel Trevigiano, ritenuto colpevole di furto aggravato ai danni dello Stato e falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria. A seguito delle indagini, le Fiamme Gialle hanno individuato una ventina di clienti, tra cui alcuni residenti a Venezia, che violando la normativa valutaria avevano versato l'equivalente del prezzo di acquisto in denaro contante alle tre concessionarie coinvolte. L'importo però superava la soglia di 3.000 euro stabilita dalla legge. Attraverso annunci su piattaforme online, i concessionari rivendevano in Italia auto importate da Germania, Francia, Spagna e Belgio. E approfittando del fatto che molti clienti ignorassero il divieto di pagare in contanti oltre una certa cifra, riuscivano a ottenere versamenti non rintracciabili. Una volta ricostruite analiticamente le transizioni, sono state contestate sia ai clienti sia ai cinque componenti del gruppo di indagati le violazioni previste per l'illecito trasferimento di denaro contante, con sanzioni che vanno per ciascuno da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 50.000, per un importo totale che supera i 2,5 milioni di euro. E ieri pomeriggio, nel territorio di Martellago, in provincia di Venezia, nel giardino di un'abitazione privata, un bambino di 4 anni si è ferito gravemente dopo aver messo per errore i piedi sotto un tagliarbo in funzione. Purtroppo le conseguenze dell'incidente sono state molto gravi, causando l'amputazione delle dita del piccolo. La famiglia ha immediatamente chiamato il 118, che ha provveduto a inviare sul posto un elicottero del suo MD Treviso, per soccorrere il ferito nel più breve tempo possibile. Cambiamo ora argomento e veniamo all'ultima notizia di oggi. L'adesione da parte del Comune di Venezia alla campagna promossa dalla Fondazione Falcone per commemorare le vittime della strage di Via Capace e Via D'Amelio a Palermo nel 1992, non ha visto purtroppo molta partecipazione nelle municipalità. Cosa che ha commentato con non celata delusione il consigliere comunale verde progressista Gianfranco Bettin. Nelle municipalità la commemorazione è stata ridotta a un evento di parte, un errore politico e un atto di arroganza. Il Comune di Venezia ha giustamente aderito all'iniziativa, esponendo a Cafarsetti il lenzuolo con l'immagine dei magistrati Falcone e Borsellino, che sta girando l'Italia. Ma nelle municipalità, a differenza di quanto accaduto in consiglio comunale, la maggioranza di centrodestra non ha ritenuto di coinvolgere l'insieme dei consiglieri, non avvisandoli nemmeno né invitandoli a presenziare al passaggio del lenzuolo nei diversi municipi. Poi Bettin ha anche aggiunto, è un segno di chiusura e di arroganza, che riduce un momento che dovrebbe essere di corale impegno e partecipazione a mera manifestazione di parte. E' anche un errore politico, perché di fronte alla mafia è l'unione che conta. Ed era questa appunto l'ultima notizia di oggi. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie. Grazie. Grazie.